Allora, scrivi la camminata Grazie Prima camminata La prima borsa Ti dà una borsetta Ti dà una borsetta Una borsetta Il primo borsetta In salita Sei pronto? Dopo Camminata Il camminata 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 Ok Schiaffi Eh? Dai Aspetta Che tagli Stiamo andati Un attimo in tendenza Ehm Chiedo Un po' C'è un po' Per Ora C'è un po' Ehm Ora Nossa ultima Conto un altro minuto vuoi il scatto? un scatto una venta una venta forzioni se la venta quanto vuoi bisogna andare a vedere? eh noi ci siamo andati a vedere guarda perché l'intimino di quanto passi quanto passi? ecco non fare come questa nuova dentro noi non mi succede mai no però per esempio il certo facciamo il certo avanti non mi metto la parte quindi non mi metto se non mi metto la parte non mi metto la parte la parte la parte la parte la parte si allora vado di correre sull'avantchiera perfetto e appunto l'avantchiera che è appunto l'avantchiera il certo passo è quello qua fastidi, dolori no vero? in cinocchio mi mandorò col cuore con la pezza è un piede si però lo so corri troppo sull'esterno del piede ok mi metterà già l'ultima spinta è del primo dito ok 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 ragazzi domenica per una cacciata di forza è bravo di combattere speriamo adesso già ragazzi è avuto di nuovo il nuovo video online è